Cari amici, in questo video, vi porterò nuove anticipazioni de, la promessa. Sveleremo insieme gli avvenimenti delle puntate in onda dal 12 al 16 giugno. Nella puntata del 12 giugno, Don Alonso si trova in una situazione finanziaria critica, e Cruz decide di agire personalmente, senza il supporto di suo padre, il barone. Sorprendentemente, Catalina è d'accordo con la matrigna e fa di tutto per impedire a suo padre di accettare denaro da suo suocero. Nel frattempo, la salute di Simona sembra essere compromessa e tutti temono per la sua vita. Iana, però, è convinta di poterla salvare, anche se è alla ricerca disperata di una medicina necessaria che sembra impossibile da ottenere. Nel frattempo, Leonor, consumata dalla gelosia verso Mauro e spietata come mai prima, incontra Teresa, la nuova cameriera di Jimena e fidanzata del domestico di cui è innamorata. Nella puntata del 13 giugno, la vita di Simona è sospesa a un filo, e Iana si trova purtroppo in grande difficoltà nel procurarsi l'adrenalina che potrebbe salvare la cuoca. Solo Manuel potrebbe aiutarla a raggiungere la Puebla e portare il farmaco alla tenuta. Iana decide quindi di chiedere aiuto a Lujan, ma non immagina che dovrà accompagnarlo personalmente nel paese e lottare contro il tempo per trovare un medico. Nel frattempo, Pia, stufa della situazione con il barone, sempre più ossessivo, decide di allontanarsi temporaneamente dalla promessa. Cruz, invece, è sempre più nervosa in vista della visita di Conrado, che è determinato a non chiudere il caso e a continuare le indagini. Nella puntata del 14 giugno, nonostante la cura procurata da Iana, la salute di Simona non mostra miglioramenti. Tutti sono estremamente preoccupati per la cuoca, consapevoli che potrebbe morire da un momento all'altro. Catalina, angosciata per la situazione economica della famiglia, suggerisce a suo padre di vendere il palazzo di Madrid per salvare la promessa. Ma Don Alonso è irremovibile e non intende separarsi da una delle sue proprietà. A Iana viene assegnato il compito di pulire l'hangar e proprio mentre sta svolgendo questa mansione, ha l'occasione di parlare con Manuel. I due condividono i loro sogni e Lujan rivela alla cameriera il suo amore per l'aviazione e il desiderio di abbandonare tutto per dedicarsi completamente ad essa. Nel frattempo, il barone fa la sua comparsa alla tenuta insieme al nipote Curro. Iana ha finalmente l'opportunità di incontrare il ragazzo che crede essere suo fratello, un incontro molto atteso e carico di emozioni. Nella coinvolgente puntata del 15 giugno, Pia respinge il barone e, irritato, quest'ultimo decide di andarsene portando via anche Curro. Purtroppo, Iana non riesce ad incontrare il ragazzo che crede essere suo fratello. Nel frattempo, Conrado è convinto che l'assassino di Thomas sia un membro della famiglia, qualcuno capace di rubare il tagliacarte di Cruz e nasconderlo. Don Alonso è alle prese con grandi difficoltà finanziarie, poiché la banca non è disposta a concedergli ulteriori prestiti. Leonor, invece, cerca di suscitare gelosia in Mauro parlando con Catalina della festa che desidera organizzare. Nel frattempo, Manuel si sente sopraffatto dalle responsabilità che la sua famiglia gli impone, e Iana cerca di sostenerlo. Dopo una notte trascorsa a bere, il ragazzo torna a casa e, confessando i suoi sentimenti alla cameriera, cerca di baciarla. Nella puntata del 16 giugno, Don Alonso è spaventato dalla sua precaria situazione finanziaria e chiede a Manuel di smettere di volare e di occuparsi degli affari di famiglia. Catalina decide di vendere un gioiello di grande valore, a cui è molto affezionata, per poter acquistare il foraggio necessario per gli animali. Manuel si scusa con Iana per aver cercato di baciarla e le rivela tutte le sue preoccupazioni, mentre la cameriera è delusa dal fatto di non aver potuto conoscere Curro, che crede essere suo fratello Marcos. Determinata a incontrarlo, Iana scopre però che sia la fotografia che l'anello di Thomas sono scomparsi. Nel frattempo, Pia si accorge che i domestici stanno parlando di lei alle sue spalle e, dopo aver costretto Teresa a rivelarle chi abbia diffuso voci su di lei, la governante affronta personalmente Petra. Le anticipazioni di questa settimana si concludono qui. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!